Torna nelle scuole la didattica a distanza. La dirigente Alessandra Tallarico dell'Istituto Comprensivo de Nicola Sasso, editore del Greco, illustra alle telecamere di tv siti come si è attivata la scuola. Prontamente la scuola si è attivata per la didattica a distanza, normalmente in cui è stata sospesa la didattica in presenza a seguito dell'ordinanza regionale di De Luca. La scuola si è attivata anche grazie a un documento stilato che si chiama Piano Scuola Didattica Digitale Integrata che è stato deliberato dagli organi collegiali, quindi collegio dei docenti e consiglio di istituto. Ci sono dei punti molto importanti e salienti all'interno di questo documento che dovranno rispettare naturalmente i docenti perché è previsto anche un monte ore, sia di modalità sincrona che asincrona. La modalità sincrona quindi che prevede anche delle video lezioni, quindi in diretta, in collegamento diretto con i docenti, quindi alunni e docenti, sono obbligatorie per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria, soprattutto nelle terze, quarte e quinte. Mentre per il biegno della primaria, quindi prime e seconde, la modalità sincrona non è obbligatoria, è solo facoltativa da parte dei docenti. Stiamo facendo un monitoraggio anche per capire come sta andando questa didattica a distanza. Quindi quando non ci sono lamentele da parte dei genitori vuol dire che sta andando bene perché i genitori ovviamente sono molto esigenti e soprattutto in questa fase insomma è ovvio che ci sono delle difficoltà, non è come la didattica in presenza farlo a casa, anche perché i genitori lavorano, quindi dovranno prendere anche dei permessi per seguire soprattutto i bambini più piccoli della scuola primaria soprattutto, però diciamo che stiamo avendo delle soddisfazioni in merito. Poi per gli alunni che non erano dotati a casa di computer e quindi anche magari tablet, la scuola prontamente ha consegnato ai genitori che ne hanno fatto richiesta, incomodato d'uso anche computer e tablet, quindi per dare la possibilità a tutti di seguire in tutta tranquillità e serenità la didattica a distanza. Poi il professore Giuseppe Romano, in qualità di referente Covid-19, chiarisce a cosa serva l'attività di screening attivata nella scuola. Un modo sicuro, spiega, per individuare possibili casi di positività, conclude tranquillizzando le famiglie. Pare che abbia fatto molto scalpore il fatto che l'Istituto De Nicola Sasso abbia processato 497 tamponi. Voglio precisare che questa campagna di screening è nata in un periodo in cui le scuole stavano chiudendo per l'ordinanza numero 82 del Presidente della Regione Campania e quindi in quei giorni, quando stavamo scoprendo in tutte le scuole, ahimè, fatemelo dire, dei casi Covid, noi ci siamo attivati. Ci siamo attivati proprio per far sì che tutti i bambini che erano entrati in contatto con questi casi, diciamo, di positività del nostro istituto venissero sottoposti a uno screening. Io come referente Covid ho voluto dare seguito a quelle richieste. Sono degli screening a tappeto che servono anche perché quando riapriremo le scuole, spero a più presto, saremo tutti più tranquilli. Che cosa si sente di suggerire ai genitori dei bambini? Di non aver timore, di non aver paura. Questo è un tipo di indagine epidemiologica secondo me necessaria. Anche solo per valutare l'ipotesi che un bambino, magari al di fuori della scuola, abbia potuto insomma contrarre il virus in un altro modo. Da insegnante invece che cosa si sente di dire ai suoi alunni? Noi stiamo vivendo un periodo difficilissimo perché anche la didattica sta risentendo di tutto questo. Dobbiamo avere solo tanta pazienza. Dovrà passare tutto questo prima o poi perché è in arrivo, spero a più presto, anche un vaccino.